Onorevole Ricciardi, prego. Grazie. Allora, noi esprimiamo senza indugie e con tutta la forza possibile l'appoggio del gruppo del Movimento 5 Stelle a quella che è stata l'azione del Governo Conte. Iniziare la procedura di caducazione della concessione è un atto sacrosanto e doveroso e sentirci ribattere con l'argomentazione come è stato fatto nei giorni successivi dell'eventuale risarcimento che lo Stato avrebbe dovuto dare al concessionario è una cosa surreale ed è surreale soprattutto se questa argomentazione viene da chi ha scritto quel contratto, da chi ha scritto e prorogato quel contratto che con delle clausole tutelano quindi, e lo scopriamo, il privato e non il pubblico. Quindi si è fatto un contratto per favorire il privato e ci vengono a dire che partire e fare questa procedura potrebbe essere oneroso. Noi Ministro confidiamo che in uno Stato di diritto 43 morti possono essere sufficienti per far sì che Benetton e Soci non facciano più profitto con il servizio autostrada. E 43 morti non sono morti per una fatalità, per un tragico inciampo del destino, no? Noi viviamo in un paese che da anni infanga la cultura della progettazione, disprezza la competenza e umilia tutta quanta che è la pratica della manutenzione e in una città dove, attenzione, il crollo del Ponte Morandi viene dopo due alluvioni e dopo la caduta di torre piloti. Quindi parliamo di una città ferita, non da adesso, da anni. E quei 43 esseri umani che sono morti, sono morti nonostante che anche in questo palazzo era stata segnalata da un'interpellanza fatta dal nostro Alberto Zolezzi e lo rivendichiamo all'allora Ministro del Rio, la criticità legata a quello che poteva essere un preoccupante cedimento dei giunti della struttura. Queste segnalazioni sono arrivate in Parlamento, sono arrivate in Regione e sono arrivate in Comune in tutti gli enti governati per anni da un unico partito ed è il Partito Democratico che occupava tutta la filiera istituzionale. Abbiamo sentito di tutto nei giorni successivi da un esponente del Partito Democratico che si è arrivato a una semplice parola, scusate, nulla. Si è preferito addossare, come è stato fatto, il giorno stesso della tragedia è la responsabilità del Comitato Nuo Gronda. Qualcuno è riuscito ad usare questa argomentazione incolpando un gruppo di cittadini che si era opposto a un'opera che comunque sarebbe stata complementare al Ponte Morandi e soprattutto doveva entrare in funzione nel 2029. E il Ponte però è crollato 11 anni prima. È crollato portando con sé questi 43 morti che noi lo diciamo chiaro e tondo, sono morti per profitto. Profitto permesso e concesso da uno Stato che ha svenduto i patrimoni pubblici in questa scellerata politica di privatizzazioni che tutti i governi di destra e sinistra ci hanno spacciato come una razionalizzazione necessaria, un miglioramento dell'efficienza dei servizi, perché il pubblico non poteva garantire. Certo, il pubblico che governavate voi non poteva garantirlo, perché quel pubblico era avvelenato e incancrenito dalla vostra classe politica che invece di affidare questi settori a persone competenti e oneste li imbottiva di clientele e di amici degli amici. Per forza poi il pubblico non funzionava. Allora, siccome questo concetto noi lo sentiamo da ormai quasi, probabilmente più di 25 anni, spero che i 43 morti di Genova siano da monito a chi continuerà a usare questo ritornello del privato che gestisce meglio del pubblico. La Corte dei Conti, già nel 2010, ci diceva che l'utile fatto da queste aziende, padrone di interi settori strategici per il nostro Paese, non era dovuto all'efficienza che avevano portato in queste aziende, no, perché aumentavano le tariffe. Aumentavano le tariffe che tutti noi pagavamo. Quindi eravamo soggetti a un mercato e al mercato che influenza e influenzava la vita quotidiana degli italiani. Vedete, al funerale delle vittime di Genova, tra le molte persone, c'erano anche un gruppo di donne e uomini provenienti da una città vicino Genova, che si chiama Viareggio. Erano presenti con uno striscione, per ricordare un'altra tragedia che nulla a che vedere con la fatalità, ma che è figlia della medesima politica. Il 29 giugno del 2009 sono morte 32 persone alla stazione di Viareggio. In quel caso la risposta dello Stato è stata di non costituirsi nemmeno parte civile nel processo, di conferire all'amministratore delegato, l'allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, il cavalierato del lavoro nel 2010, e di nominarlo nel 2014 amministratore delegato di Finmeccanica. Questa è la differenza tra chi c'è ora e chi c'era prima di fronte a una tragedia del genere. Noi siamo assolutamente convinti che il servizio di gestione autostrade debba ritornare in mano pubblica, e in mano pubblica di una politica trasparente che abbia la gestione e il controllo di ciò che hanno finanziato i nostri padri e i nostri nonni. Io integro quello che ha detto il Ministro, mi permetto di integrare, l'intera rete di autostrade del nord-ovest, e parliamo di 1600 chilometri, doveva essere vigilata e ispezionata da soli 13 dipendenti, di cui uno era precario, e la maggior parte di questi impiegati, come ha ricordato il Ministro, non avevano neanche le competenze e neanche la strumentazione, potevano controllare aiuole, luci e poco altro. Concludo dicendo che abbiamo sentito come il governo interverrà anche economicamente, ovviamente, su questa tragedia, però noi ci ricordiamo di come la classe politica e i faccendieri vari nelle grandi tragedie ridevano durante le notti delle grandi tragedie, perché quelle occasioni diventavano fonte di guadagno per sciacalli di ogni tipo. Noi crediamo e siamo sicuri che tutti i centesimi che usciranno dallo Stato saranno gestiti in trasparenza e si ricostituirà finalmente quel legame tra Paese e governo, perché questa gente non vedrà nessuno che speculerà sulle loro tragedie.